Ciao, sono Elisabetta Puletti. Sono una sessantenne e da una trentina di anni vivo a Roma. Ma in realtà era solo una toscanaccia. Amo il mare da sempre, dalla spiaggia alla barca vera, passando sott'acqua. Mi piace guidare. Guiderei per ore in autostrada. Ma le strane e montagne, la so tutta un'altra cosa. Mi piace fotografare, fotografo di tutto. Mi piace fermare l'immagine, la sensazione, portarle con me. Ma soprattutto amo gli animali, tutti gli animali. Mi piacciono tantissimo le panterre nere, le aquie, i delfini. Ma gli animali che amo di più sono cani e gatti. Soprattutto Jack e Pinko, il cane e il gatto che vivono con me. Questo è il mio profilo sinistro. E questo è il mio profilo destro. Sono alta un metro e settantacinque. E la mia agenzia è la cantera management. A presto. Grazie a tutti.